Ciao a tutti amici e amiche, sono qui oggi per parlarvi di fumetti e lo faccio con Giulia. Chi mi conosce da tempo sa che io ho sempre portato Giulia, tranne quando ogni tanto non l'ho comprato. Gli ho sempre dato una seconda, una terza, una quarta chance, anche quando si succedevano due, tre, quattro numeri che non mi piacevano, e devo dire che ho fatto bene. Azzardo questa cosa ragazzi, se non ci fosse Dylan Dog, ma parlo di Dylan Dog non tanto in quanto fumetto che compro ancora, parlo proprio dell'idea che sta alla base di Dylan Dog. Se non ci fosse stato Dylan Dog, probabilmente Berardi con Giulia, si sarebbe preso lo scettro di miglior fumetto Bonelli. Io dico questa cosa, me ne assumo le responsabilità, me ne assumo oneri e onori, perché questo è quanto. Perché, vi spiego, pur riconoscendo che, ah, Dylan Dog fa proprio categoria a parte, lì siamo nella categoria dei capolavori, dei fuoriclass assoluti. Pur riconoscendo che Labonelli ha sformato quasi tutti i personaggi della Madonna, e riconoscendo che, senza i vari Tex, Zagor, Mister No, tutti spettacolari, e non voglio nulla togliere a questi, pur riconoscendo che questi sono dei fumetti basilari, non solo per la Sergio Bonelli, ma anche proprio per la storia del fumetto italiano, un personaggio come Giulia, inteso Giulia, personaggio, ma anche le storie che propone, sono letteralmente la quintessenza del fumetto fatto bene, del fumetto che ti intrattiene, del fumetto che ti tiene sospeso, ovviamente se ti piace il thriller, se no, leggi ti altro, leggi ti, boh, un'altra roba, sono la quintessenza, cioè, Giulia è la quintessenza del fumetto fatto bene, di chi ogni mese si studia un soggetto, una sceneggiatura, e la mette in atto. E' un fumetto che ridicolizza tanti autori portati su un piedistallo che non valgono nemmeno due pagine di Giulia, perché con la storia che ogni tanto qualcuno si inventa questa favola, per giustificare alcuni fumetti della Bonelli, con la storia che uno dice, eh ma tanto lo fa anche la Marvel, la DC, i ritorni, le cose, ho capito, ma lì siamo proprio su un altro pianeta, su un altro pianeta a livello di grafica, di saghe, di storie, e non possiamo noi generalizzare così, cioè non possiamo dire che... cioè non possiamo dire che, con tutto il rispetto che possa avere per chiunque, un allenatore di Serie C che applica il catenaccio è uguale a Trapattoni, capite il discorso? Non può centrare, cioè stiamo parlando di un allenatore che ha fatto la storia della Serie A, con un club che ha fatto la storia della Serie A, ovvero la Juventus, e lì stiamo parlando di un allenatore che se è in Serie C e non evolverà, probabilmente un motivo ci sarà. Poi, che applica lo stesso concetto, ci possiamo stare in questo discorso, catenaccio fa uno, catenaccio fa l'altro, tutte e due giocano in difesa e con qualche colpo in contropiede, però se uno ha fatto la storia della Serie A e l'altro al massimo farà la storia della Serie C, e magari nemmeno bene, applicano lo stesso concetto, ma la differenza sta nel colpo di genio. Se uno ce l'ha, evidentemente farà la storia e l'altro no, e questo è quanto. Quindi non facciamo questi paragoni perché stiamo giocando due campionati diversi, Marvel e DC non valgono come Zagor o altri fumetti, o come anche Morgan Lost. Ok, ci siamo? Giulia, questo mese, porta una storia pazzesca, dove veramente ci sono, a parte si parte dai riferimenti a Zodiac, che poi è uscito anche il film di Zodiac, ovvero di quell'assassino che agiva negli anni 60-70, così, lui diceva, questo assassino diceva letteralmente, nelle sue deliranti affermazioni diceva che lui era un pazzo, un pazzo, una specie di pazzo lucido che si divertiva a uccidere. Era molto divertente uccidere perché un giorno lui sarebbe finito in paradiso e le vittime che lui aveva appunto seminato con le sue mani sarebbero diventati i suoi schiavi in paradiso. Ecco, una persona così, vedete che viene portata sulle pagine di Giulia per costruire una trama dove vi è un pazzo, un lucido pazzo con problemi di alcol che è uno scrittore e sta seminando un sacco di vittime, uccide le persone. Perché uccide le persone? Per malessere? Perché è divertente? Non c'è un vero movente, perché quando c'è una scena come questa persona, questo pazzo, diciamo pazzo, non lo so chi sono i pazzi alla fine, questo non lo so. Quando vi è una persona che semplicemente sale su un taxi, magari senza nessun intento malevolo, e così per un guizzo fa fuori il tassista, quello è la quintessenza del thriller, del mettere un colpo di scena che tu non ti aspetti. E da lì poi viene costruita tutta una trama attorno a problemi reali della vita, perché questa persona comunque uccide, pare senza un movente, però accudisce una moglie con dei problemi di salute, le somministra le medicine, hanno problemi economici, quindi entra in atto tante di quelle cose, problemi economici, problemi sociali, problemi familiari, istinto del killer. Poi le indagini, questa volta veramente Giulia torna a fare sia la criminologa, ma anche a indagare nell'animo. Ha delle intuizioni geniali lei, no? Riesce ad arrivare dove il pur buon Webb non riesce quasi mai arrivare, questo è un po' il limite del fumetto Giulia. Purtroppo il povero Webb non riesce mai arrivare all'intuito di Giulia, ma in questo albo è fatto in maniera simpatica, perché in altri albi, diciamo, ho spesso evidenziato come Giulia risultasse un po' antipatica, invece qua è tutt'altro che antipatica. Anche questo scenario che si crea, come vedete qua in copertina, in questa bellissima copertina, è quasi tutto, diciamo, ambientato nella neve, nell'oscurità, quindi ricorda alcune pellicole che hanno questi scenari. Mi ricorda tanti film, adesso è inutile, non voglio nominarne uno o due perché farei torto a tanti altri, però se guardate anche Uomini che odiano le donne, era ambientato con l'oscurità, c'era sempre un clima uggioso, oscuro, e quindi mi ricorda un po' quella pellicola lì, l'originale, parlo non quel remake poi americano che è stato fatto dopo, e altre pellicole girate nell'oscurità che però non c'entrano niente, come ad esempio Blade Runner, quell'oscurità onnipresente, però vabbè questo non c'entra niente, parliamo di un altro genere. E quindi tutto si fa veramente più opprimente, tutto molto più interessante, le indagini sono sempre svolte al freddo, vediamo i personaggi, Webb, Giulia, coi cappellini. Ragazzi, è una storia, secondo me, che va letta questa, è inutile parlarne ancora, è una storia che parla di un assassino che apparentemente uccide per follia, ma che secondo me, proprio per come è stata fatta l'impalcatura dell'albo, probabilmente non è proprio così. Parlare di altro, io non vi dico altro, posso ancora azzardarmi nel dire che questa persona annotava in un qualche modo questi omicidi che faceva, però dove, come, perché, quest'altro non ve lo svelo perché vi ho già svelato molto, il finale è drammatico, ragazzi, disegni, cosa ve lo dico a fare? Comunque, i soliti sceneggiatura Giancaro Berardi e Lorenzo Calza, disegni di Ernesto Michelazzo, la copertina di Cristiano Spadoni, copertina ne ho già parlato, molto bella nella sua semplicità, e i disegni di Michelazzo a me sono piaciuti molto, come vi dicevo, cappellini e scene d'inverno al freddo, e non c'è il solito incubo di Giulia, però delle belle tavole, decisamente delle belle tavole. Questo è tutto, fatemi sapere nei commenti se l'avete letto, se lo leggerete, se avete intenzione di leggerlo, io vi saluto e al prossimo video. Ciao!